soffia bebi eva tanti auguri canta con me tanti auguri a te ciao a tutti ragazzi siamo Rebby e Molly e bebi eva e oggi con noi c'è anche la bebi eva ecco ciao mamma ciao bebi eva oggi è un giorno veramente speciale ha fame questa sempre fame ecco ha fame è il compleanno di nostra figlia bebi eva auguri tanti auguri a te tanti auguri a te ha fame vuole la torta ha fame ok 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 nostra figlia compie un anno un anno per la bebi eva comunque vi ricordiamo di lasciare un like un commentino se vi piace bebi eva e scrivete un commentino abbiamo tanti auguri sotto il video esatto tanti auguri bebi eva allora Rebby che cosa facciamo oggi allora ovviamente ci saranno tante sorpresine per te allora allora si adesso ha sete allora gli abbiamo comprato allora vado un po' più in qua se no sente gli abbiamo comprato un sacco di regalini e dopo non senti niente bebi eva gli abbiamo comprato un sacco di regalini adesso festeggeremo il suo complanno con una torta ok ho fatto ok non hai sentito niente non hai sentito niente vero allora facciamogli vedere i regalini che abbiamo comprato si andiamo subito ti abbiamo preso un regalo eh eh vuoi i regali li piacciono eh eh ti piacciono i regali ti prendo un bicchiere d'acqua no ma Molly ma che bicchiere d'acqua lei beve col biberon ah forca miseria è già grande pensavo che fosse è già grande ha un anno Molly dai allora mettiamola qua Vini prendiamo la sua culla ecco qua mettila qua vuole giocare ha detto adesso ti prendiamo i regalini che ti abbiamo comprato ok bebe Eva è felice felicissima non vede l'ora sta ridendo tutto il tempo ti faccio sollettichino il faccino rida li piazza Reby forza Reby non vede l'ora ok cosa c'è lì ecco qua appoggiamo qua il tuo ciuccio ecco qua bebe Eva questo è il tuo regalo di compleanno mamma adesso ti voglio bere oh mio dio mi è piaciuto quindi oh quindi allora gli hai preso questa borsettina gli abbiamo preso questa borsettina indovinate un po' cosa ci sarà dentro vediamo vediamo cosa c'è dentro lei è velocissima giochiamo si è felice per il suo compleanno è proprio felice baby Eva vediamo che cosa c'è qua dentro Reby esatto guardiamo guarda bebe Eva ti abbiamo fatto un super regalino oh mio dio la tutina per il primo giorno di squad guardate che bel crempiolino per baby Eva e io sono la mamma ma come notte notte ci sono i tuoi regali baby Eva e io te l'ho fatto anche io il regalino ma non ti piace questa vuoi andare a dormire ma non è un pigiama è per andare a scuola comunque eh facciamo a vedere il regalino che gli abbiamo preso a baby Eva è una specie di ma 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 dorme ma si è addormentata ma noi gli facciamo i regali e noi dorme eh ma gli abbiamo preso la tuta per andare a scuola lei non vuole andare a scuola vabbè comunque è molto carina c'è anche un gattino fateci sapere se vi piace esatto e qui baby Eva si è addormentata perché non vuole andare a scuola chissà quando gli crescerà un dentino fa vedere beh non ce li ha i dentini e ancora non ha i dentini allora mentre dormerebbe io direi di preparargli la sorpresa con le candeline esatto facciamogli la sorpresa facciamo piano non svegliarla eh mettila lì mettila lì ecco mettiamola ok mettiamo magari la copertina sopra su una vestitina questa non è la copertina e vabbè dai la usiamo come copertina adesso non facciamo i sofisticati lei ha la sua copertina ok allora questo te lo metti tu per andare a scuola io ma a me non mi va proviamo se mi va allora guardate adesso prendiamo ce l'ho qua la candelina guarda baby la candelina c'è anche scritto uno perché compie un anno la beviamo ovviamente e visto che lei non ha ancora i dentini gli prendiamo un biscottino anche il cappello ci arrivi baby? o sei bassa? ecco questo l'abbiamo messo in alto brava la nerocola ehi non so non è la nerocola ok adesso mandi a dorme fai piano gli mettiamo il cappellino dormi dormi guanciottin che regalino oh che è troppo bello baby oh mio dio oh eh non è successo niente ciao mamma eh ciao ciao baby Eva hai visto il tuo cappellino mi piace mi piace scusa ha fatto un rutino eh non si fa le rutini che puzza allora intanto tutti e là tutti e là io gli regalo abbiamo giocare ha detto se possiamo giocare si adesso ti dobbiamo fare un regalino adesso ti prendiamo la tua torta prendiamo un piattino ecco qua c'è la torta la torta non possiamo dartela perché non la finisce ti viene male al pancino ecco abbracciami si ti abbracciavo ecco qua un bel biscottino per la nostra baby Eva ecco solo uno perché altrimenti ti viene mal di panza ti viene mal di panza non ne frega niente se gli viene il mal di panza le canta è il suo compleanno adesso il suo biscottino è il suo compleanno allora accendiamo la candelina per baby Eva la mettiamo qua ecco qua il cosa il fiammifero la cosa ok accendiamo ecco qua accendiamo la candelina mamma mamma non va eh non so che ci vuoi tanto bene guarda che sorpresa che ti abbiamo fatto porca madre rabbit vieni un attimo vai molly ecco la baby Eva sappiamo i fiammiferi vai oh un olore poco alla baby Eva ecco uh che pusto no hai bruciato tutto tanti auguri a te ha detto che ha fame guarda come apre la bocca soffia baby Eva tanti auguri canta con me tanti auguri a te tanti auguri tanti auguri alla baby Eva a fame guarda vuole il biscotto e vuole il biscotto soffia baby Eva soffia baby Eva soffia vai vai tanti auguri baby Eva tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a baby Eva tanti auguri a te adesso arriva il treno ma aveva aperto la bocca ma mangia mangia buono lo mangio io buono è un po' sporcato poverina mamma ha fuoco oh poca è vero scusa gli hai dato da mangiare adesso li dovrai dare da bere ok ti è latte un attimo eh allora prendigli il biberone baby eh si adesso li diamo da bere Un attimo Ti sei scorata dov'è? Eh sì Ma vuoi una mano? No no ce la faccio Comunque io ho un altro regalo per la Bebby Eva Ecco qua Ma mi ascolti? Sì Ho un altro regalo per la Bebby Eva Giochiamo? Giochiamo Ok Vieni Bebby Eva ti facciamo vedere il nuovo regalo che ti abbiamo preso Andiamo a vedere il nuovo regalo È una vestiata la nostra bimba Eh già Allora Bebby Eva t'ho preso un regalino e sta proprio qua Eh però lui è il babbo Solo io la mamma Solo la mamma Guarda t'ho preso un regalino Bebby Eva La vuoi aprire? Lo apriamo questo bel regalino Mettila a sedere Reddy Mettila a sedere Vieni Bebby Eva Qua c'è ancora mezza del tuo biscottino C'è ancora il tuo biscotto da mangiare Cantiamo Vai cantiamo Lala Guarda Bebby Eva Ti apro il tuo regalo voglio vedere guarda che c'è la manina in su che lo vuole tenere 3,2,1 eccolo che cos'è te lo gonfio aspetta che cos'è questo coso che cos'è allora vediamo aspetta eh questo è il regalo per la baby Eva perché non bastava solo quello esatto li abbiamo preso mamma mamma si però mamma sono io grazie ti voglio bene se sei provata no sono io grazie sono io questo bisogna gonfiarlo così vai molli vedi ti sta dicendo come lo devi gonfiare lo devi gonfiare facendo vai molli è gonfio allora questo pallone ancora ancora mamma no no perché pianzi ma lo sto gonfiando no cosa è successo no adesso te lo diamo da bere è vero che ti diamo da bere molli smetti di gonfiare quel palluccino e dagli da bere ecco si sta arrabbiando perché te non hai finito di gonfiare il suo palluccino un attimo porca miseria no adesso ti diamo il palluccino no 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 dai molli sta piaccendo fatti come una mossa dai ecco guarda porca miseria si è rotta la questa ecco guarda baby Eva stiamo gonfiando ecco stiamo gonfiando no dice mamma perché te non sei capace a gonfiare il palluccino guarda guarda stiamo gonfiando guarda mettigli il ciuccio no tieni tieni il ciucino tieni guarda un po' cosa c'è qui ecco qua bravissimo vieni il ciuccio ecco adesso non piangi più guarda baby Eva guarda baby Eva guarda è il tuo nuovo regalino hai visto che è un maialino con questo adesso baby Eva si fa così e cosa stai dicendo tieni tutto per te ecco brava ecco tieni piace ecco adesso con quello ancora 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 ecco ecco il suo nuovo regalino eccolo si è tutto per te puoi giocare si con quello adesso con questo baby Eva si fa così no 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 ecco ecco ahah 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 basta basta baby Eva aiuto ahah 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 ok ragazzi per questo video è tutto da noi e baby Eva è tutto mi raccomando scrivete nei commentini mamma mamma grazie grazie ahah 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 Grazie a tutti